Anche oggi due gravi infortuni sul lavoro in Lombardia. Un operaio è morto cadendo da un'impalcatura, forse per un malore, a Padenghe sul Garda. Un altro gravissimo travolto da un carico alla Pellegrini di Legnano. Incidenti mortali in aumento, 204 nei primi nove mesi dell'anno, il 72% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. I dati sono dell'INAIL. Complessivamente gli infortuni sono calati a 73.000 contro gli 86.000 dello scorso anno. Numeri molto alti nonostante le chiusure dei mesi scorsi. La CISL parla di situazione grave e di insufficiente azione delle istituzioni in materia di prevenzione e controlli.